Gentili telespettatori, buona giornata. E adesso Salvini vuole la garanzia scritta. Eh sì, le parole sono, come si dice, erba volant, come si dice? Bene. Dopo quello che è successo in Sardegna, Salvini ufficialmente dice ma mi dispiace, ma cosa è successo, non riesco a capire. Quando la Meloni parlò con Salvini e Tajani durante una cena, non facciamoci dispetti, mi raccomando. Salvini disse, ma ci boccherebbe altro, ma quali dispetti? Siamo persone adulte. Mi immagino questa conversazione, no? Qualcuno dice che è esistita, che sia esistita, non lo so. Però, comunque, Salvini, Tajani e Meloni avevano garantito che si andava uniti a votare Truzzo in Sardegna. Poi, ovviamente, la Lega in Sardegna ha detto, ah sì, prendono e cancellano il nostro candidato? Perché loro vogliono imporre il loro, perché hanno vinto le elezioni? Salvini, ok, votiamo per quell'altro. E così, la Lega ha fatto pesare i propri voti in Sardegna molto. La Lega non è arrivata al 4% in Sardegna, ma è riuscita a far strapesare quel 4% e a far perdere la regione al centro-destra. Quando Salvini ha visto questo, probabilmente non ci credeva neanche lui, diceva, vabbè, dai, magari qualcuno non voterà per la coalizione, ma riuscire a far perdere Truzzo sarà impossibile. E invece la Lega c'è riuscita. E Salvini sarà rimasto esterefatto, avrà detto, per dindirindina, per tutte le balene di Cotam City. E adesso, dice, si è sentito forte, potente, dice Caspiterina. Il mio partito, altro che tu zitto, qui siamo forti, qui ribaltiamo le carte sul tavolo. E così adesso Salvini, ringalluzzito, dice, voglio scritto, voglio ottenere la garanzia scritta. E così Salvini ha incassato il documento sugli uscenti. Ecco. Stavolta Matteo Salvini ha fatto la parte del poliziotto buono, facendo parlare il suo vice Andrea Crippa, che fa la parte di quello cattiva. Perché Andrea Crippa dice, è stato un errore candidare Truzzo, come dire, è stato un errore. Poi voi fate le valutazioni che volete. È stato un errore perché non andava bene la persona e gli elettori non l'hanno voluto? O è stato un errore e noi ve l'abbiamo fatto pagare? Ve l'avevamo detto? Quindi dietro quel è stato un errore può esserci qualunque significato. Così il vice fa quello cattivo. È stato un errore. E Salvini dice, Caspiterina, è andata male. Salvini fa quello buono. Sapete che di solito c'è quello che fa il poliziotto buono e quello che fa il poliziotto cattivo. Così l'uno ha commentato pubblicamente l'esito in fausto delle elezioni sarde e l'altro ha ricordato puntigliosamente agli alleati che si è voluto sostituire il presidente uscente Solinas a due mesi dalle elezioni e ha messo in discussione la ricandidatura del forzista Vito Bardi in Basilicata. Dicono che Salvini si sia sfogato con la Miloni senza mettere in dubbio il loro rapporto personale. Come dire, siamo amici, però cacchio, dai, te l'avevo detto che era sbagliato. Se c'è quello uscente della Lega, si mette quello uscente o si mette un altro della Lega. Tu hai insistito, abbiamo perso. Ma amici come prima, eh. Quindi Salvini fa il poliziotto buono, però sembrerebbe che gliele abbia dette quattro alla Meloni. E l'altra, che cosa deve dire? Dopo aver perso. L'altra ha fatto anche lei buon viso a cattivo gioco. Hanno fatto tutte e due buon viso a cattivo gioco. La Meloni dice, cacchio, guardate cos'è successo. Me l'hanno fatta pagare. E quell'altro dice, ma siamo amici, te l'abbiamo fatta pagare. Ecco, capite che Salvini avrebbe rammendato che l'aveva messa in guardia prima del voto, ricevendone granitiche rassicurazioni che si sono però poi polverizzate nelle urne. Perché Salvini aveva ricevuto la garanzia di Meloni che si sarebbe vinto assolutamente. Ma in effetti si sarebbe vinto, si sarebbe dovuto vincere perché il centrodestra ha avuto il 48,6%. La maggioranza degli elettori sono di centrodestra, ma non hanno tutti votato per il candidato Truzzo. Sbollita però l'irritazione, anche perché non è affatto detto che Solines avrebbe avuto più possibilità, Salvini ha cercato di volgere a proprio favore il passo falso della Meloni, rilanciando sulla conferma dei governatori uscenti, e così la notizia è che poi la Meloni ha ceduto e si sarebbero messi d'accordo sulla riconferma dei governatori uscenti. A parte che c'è un piccolo problema, perché va bene in Basilicata Vito Bardi, Guido Baldo Maria Riccardelli, no? No, Vito Bardi, chissà perché mi è venuto in mente Guido Baldo Maria Riccardelli della saga dei film di Fantozzi, no? Guido Baldo Maria Riccardelli, che era il Duca Conte. Va bene, la riconferma di Vito Bardi in Basilicata, Alberto Cirio in Piemonte, ma Luca Zaia come si fa a riconfermare che sarebbe al terzo mandato? E visto che si è già votato in Parlamento e si è detto no al terzo mandato, quindi Luca Zaia non lo puoi, devi cambiare la legge, non lo puoi candidare per la terza volta perché dovrebbe cambiare la legge. E allora la legge dovrebbe provare a mettere al posto che Zaia a proporre qualcun altro della legge, sperando che poi quelli di Fratelli d'Italia non pensino di ritornare il favore a Salvini, come dire, hai fatto lo sgambetto in Sardegna, adesso noi lo facciamo a te, così perdi il Veneto. Piuttosto che prenderlo noi come Fratelli d'Italia, il Veneto, piuttosto lo consegniamo alla sinistra come è successo in Sardegna, ma piuttosto che darlo a Salvini e ancora al Veneto lo diamo alla sinistra. Voi dite, è possibile che si possa cadere in questi giochini? E certo, non avete visto cosa è successo in Sardegna? Quindi una vendetta di Fratelli d'Italia vi stupirebbe? No, però vorrebbe dire perdere due regioni, aver perso la Sardegna e perdere anche il Veneto. Ecco, diciamo che non è propriamente un qualcosa di così idilliaco questo modo di ragionare. Speriamo che la chiudano lì perché se no... Arrivederci a tutti e grazie.